Sono abbastanza triste perché mi dispiace prima di tutto non riuscire a portare a casa nemmeno tutto. Mi dispiace tantissimo che non riusciamo mai ad esprimerci al nostro valore reale di questo alimento. Stiamo facendo ancora questa trica ingranare e quindi diciamo che ci pare chiama retta. I 27 siete stati molto attaccati a Modena, sconfitte però nel finale. C'è una mancanza di personalità forse di questa squadra? Ma guarda, questo non direi perché comunque è un gruppo giovane diciamo perché è una squadra che è stata attaccata anche su tutti gli stati. Quindi per arrivare dai risultati c'è bisogno comunque di tempo, di trovare la magra maggiunta. Però è chiaro, si arriva sempre e spesso lì per lì e poi non si riesce mai a scudere. E che dire, dobbiamo ancora lavorare con tanta unità e tenere solo perché non è semplice perdere e perdere. In continuazione soprattutto davanti a un pubblico logistico che anche per loro mi dispiace ancora di più.